ciao a tutti bentornati su spazio indaco benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 4 all 11 giugno benvenuti alla settimana della luna piena in sagittario una luna piena di fuoco del giorno 4 e all'ingresso di venere nel segno del leone il giorno 5 noi abbiamo già parlato e detto nei video precedenti che nel cielo ci sono già marte e leone una lily in leone e quindi questa settimana abbiamo ben quattro valori di fuoco ovviamente c'è sempre il benaugurante chirone nel segno della riete tecnicamente i valori sono cinque approfitto per rispondere a tutti quelli che mi chiedono ma con chirone quando io chirone in un segno che cosa succede io non riesco a rispondere ovviamente a soddisfare le esigenze di tutti perché siete veramente tantissimi meravigliosi e tantissimi quindi approfitto ormai nei video se avete un chirone di fuoco quando ci sono a parte chirone nel segno di fuoco ma altri pianeti importanti altri transit importanti in segno di fuoco significa che gli eventi intorno a voi gli incontri le persone le dinamiche sono utili per apportare un pezzo di guarigione a quello da quella che è la ferita emotiva soddisfatta indicata da chirone ok quindi quando i transiti sono favorevoli c'è una guarigione naturale quindi arriva qualcuno che vi aiuta cose di questo genere oppure si sblocca una memoria si sblocca un pensiero si sblocca una connessione si sblocca una connessione e voi riuscite a fare un passo avanti quindi dei piccoli o medi salti quantici quando ci sono le dissonanze significa che magari quella ferita fa male la dobbiamo guardare per forza perché perché l'essere umano sia quella ferita è anche in grado in realtà di guardarle processarla se non lo fa perché siamo pigri timorosi paurosi oltre quelle che sono le nostre reali virtù e competenze quindi no c'è un mix di volere la pappa pronta pigrizia paura della mente bambina che ha paura di affacciarsi e guardare se stesso e le proprie no responsabilità o i propri dolori ci sono tutta una serie di dinamiche quando è un lavoro che noi un pochino anche con distacco no però che dobbiamo fare quindi quando ci sono le dissonante sui nostri chironi è arrivata blu bisogna guardarle un attimo anche se magari danno fastidio voi guardatele come se fossero quelle di qualcun altro potreste arrivare ad una comprensione più immediata che magari la parte emotiva rende invece più nebulosa ma quindi riavvolgiamo il nastro torniamo a noi ci sono quindi quattro cinque pianeti in segno di fuoco poi vabbè la settimana prossima alla fine di diciamo di questa settimana l'undici mercurio lascerà il segno del toro ed entrerà nei gemelli quindi c'è già il sole nel segno dei gemelli e plutone plutone questa settimana alla fine proprio di questa settimana tra il 10 e l'undici ritorna nel segno del capricorno quindi abbandona l'acquario comunque i segni di fuoco ovviamente tutte le persone che hanno dei segni di fuoco l'ascendente e leone l'ascendente il sole la luna gli stellium marte venere tutte e tutti voi anche mercurio che avete degli importanti valori di fuoco avrete registrerete un tasso di energie più alto quindi le cose che iniziano un po a girare come volete voi questo vale anche per i pianeti per i valori d'aria questa settimana si segni di fuoco e segni d'aria ritornano alla ribalta in maniera felice anche il sagittario che vive il suo lato ombra perché siamo nel segno dei gemelli siamo nel mese dei dei gemelli è aiutato da tutti questi valori il leone quindi tutti i contenti tutti i segni la bilancia è annoverata fra i segni di fuoco felici tra i segni d'aria ragazzi ormai felici perché si è tolta l'opposizione di giove in ariete è vero che c'è insomma c'è ancora chirone ma chi ha retto giove congiunto a chirone ovviamente con ariete con chirone in ariete che ce l'abbiamo da un paio d'anni anche di più ormai è temprata e abituata quindi sicuramente la bilancia ogni tanto qualche rabbia fuori controllo ci scappa qualche voglia di litigare con qualcuno ma siamo tornati nell'ordine no delle cose che vuoi degli equilibri delle armonie che voi riuscite a portare quindi un cielo molto bello per l'aria e per il fuoco per i segni d'aria e per i segni di fuoco permane uno stato discretamente accettabile no di più che sufficiente in realtà e quando parlo di accettabile avendo come dire delle aspettative abbastanza alte magari il rischio di di spaventarvi ma in realtà se dico che accettabile vuol dire che si sta abbastanza bene i pianeti in segno di terra hanno giove nodo nord ancora e urano qui a favore rispondo a tutti quelli che mi hanno scritto tutti quelli del toro che mi hanno scritto dicendo qua va malissimo c'è arrivato giove a parte che è arrivato da poco qui ci aspettiamo qualcosa di più allora ragazzi giove entrato da dieci giorni 15 deve rimanere un anno cioè affinché elargisca i suoi doni affinché compie il suo lavoro ha bisogno di un anno della sosta di un anno tipicamente insomma ci sono dei transiti regolari ma giove ha bisogno di 10 12 mesi in ciascun segno per sviluppare l'energia per sviluppare quello che deve sviluppare quello che l'universo vuole che sviluppi quindi già ci siamo capiti è presto diciamo che è facilmente intuibile che un pianeta come il toro si esce da quadrature di saturno giove nel 2021 ha fatto danni insieme a saturno potentissimi poi c'è stato è uscito dall'acquario soltanto il 7 marzo 2023 ovvio che per riprendere la china e per rimettersi in carreggiata ci vuole un po e come se a causa del transito di saturno e ragazzi della quadratura di saturno durano in toro cioè due governatori di un segno uraniano che hanno litigato per diverso tempo no ai danni sicuramente dei segni fissi toro leone scorpione e acquario stesso no quindi voi immaginate che nel vostro percorso di vita siete usciti fuori strada con la macchina per un certo tempo quindi magari siete rimasti anche nel fango e si è solidificato questo l'uscita di strada simboleggia le problematiche i casini i casotti che si sono accumulati con i transiti di saturno adesso sembra che sia uscito il sole è arrivato il carroattrezzi sta iniziando a trainarvi ma ovviamente dovete metterci anche del vostro tutti dobbiamo metterci nel nostro quindi bisogna fare le manovre le retromarce spingere tutta cercare di uscire voi vedete che una macchina quando in pantanata dovrà spingere no dovrà tentare diverse manovre prima di riguadagnare l'asfalto ecco il toro è in quella fase non solo il toro anche l'acquario anche lo scorpione anche il leone e quindi ovviamente con un marte di fuoco dissonantissimo ma perché dissonante risonte non significa devi star fermo sonante significa che c'è una spinta diversa da potente che parla la stessa lingua del valore che avete no desti questi quattro segni soprattutto il leone ma è di un elemento diverso cioè dai fuoco dall'audacia ovviamente è una spinta che è scomoda da integrare perché magari fa parte di un elemento diverso dal vostro a parte segno del leone che ne beneficia di più ma a volte abbiamo bisogno di un punto di vista diverso di un'energia diversa per uscire la nostra non basta per uscire dal pantano quindi c'è questa grandissima spinta un po violenta di marte e leone dominante aggressiva probabilmente toro scorpione leone senza senza ombra di dubbio anche l'acquario faranno la voce grossa si arrabbieranno più del dovuto avranno un'energia a volte fuori controllo diventeranno felini un po felino e saranno arrabbiati ci saranno delle azioni sgangherate perché tanta energia e non è la stessa energia che sono abituati a palleggiare ma è quello che serve per dare una mossa perché a volte quando siamo impantanati stratificati addormentati imbolsiti in situazioni che ormai sono diventate abitudini quando bisogna non sono sane quando immaginate anche soltanto il lock down oltre ai casini di saturno al caos portato da un saturno in acquario che era un caos che doveva svegliare alcune cose poi ovviamente i pezzi ricadono a caso e uno si adatta si adatta con quello che fa quello che può con quello che ha ma non è il massimo deve rimanere una situazione temporanea e poi invece però l'essere umano si abitua si abitua a quello stallo si abitua ad avere a che fare con degli intoppi con delle situazioni insoddisfacenti che prima magari erano funzionali alla sopravvivenza voi immaginate un lavoro rattoppato qualcosa che uno accetta proprio perché con lockdown magari ha perso il lavoro e ha bisogno delle amicizie di un certo modo no ma non se non è quello se andavano bene in una fase di recupero in una fase di difesa ma non è quello che poi stimola la persona a crescere ad evolvere e anzi la piattisce ci vuole marte il leone bello tosto che dà una svegliata quindi siamo nella fase in cui è arrivato questo lo dico anche per i per i segni di terra per tutti i segni anche per i segni d'aria ad acqua a cui abbiamo detto con il video di gioventoro a cui ho detto con il video di gioventoro che beneficiano di gioventoro però previo cambiamento cambiamento magari scomodo sano ma scomodo urano siamo nella fase in cui è arrivato il carro attrezzi magari sta agganciando i ganci e adesso lo sforzo inizia lo sforzo di fare queste manovre è una frase è una fase breve intensa ci dobbiamo sforzare tutti di andarci a riprendere quello che ci interessava forse quello che che volevamo fare all'epoca non ci interessa più è un'altra cosa ma bisogna uscire dal pantano spero di aver di avervi reso l'idea di quello che no della condizione energetica della fase energetica nella quale molte persone si trovano che aspettavano giove e ancora non vedono bisogna dar modo all'essere umano all'energia universale anche di integrare gioventoro e marte e leone perché sono entrati insieme a distanza di tre o quattro giorni questo vuol dire che sono due energie fisse che si devono integrare ovviamente con uno sforzo perché sono inquadratura in tutti i segni fissi sono inquadratura tra loro quindi fase di sforzo ma adesso l'energia più interessante dovrebbe essere più di adattamento perché perché l'ingresso di gioventoro è stato preannunciato dalla luna piena del 6 maggio in scorpione quindi è stato proprio un'energia di un mese abbondante data da segni fissi si conclude con la luna in scorpione della croce del 1 e 2 giugno no che di cui abbiamo parlato nel video della scorsa settimana e adesso il cielo diventa subito di fuoco quindi energia ok siamo usciti dal pantano è a posto dove andiamo no l'energia abbiamo detto pianeti leone sono plateali l'abbiamo detto anche nel video di liti leone sono plateali quindi ci si è rimessi in carreggiata ci si è rimessi alla luce del sole ora bisogna scegliere la direzione la luna piena in sagittario in un segno mutevole porta con situazioni ormai di adattamento perché quando si esce dal pantano poi bisogna adattarsi per un mesetto a vedere quello che si trova quello che si ritrova dopo che era stato magari lasciato e parlo di sogni di situazioni no di rapporti umani si vede quello che c'è e si procederà in base a quello quindi siamo in una fase di transizione che richiede tante energie probabilmente è c'è un errore di fondo quello di voler mantenere lo status quo cioè quello di non voler fare il cambiamento a volte ci si aggrappa ad amicizie situazioni condizioni che sono solo dei palliativi e non fanno bene per noi quindi cercate di ascoltarvi per tutte le persone che non se la sentono di intraprendere un percorso seguiti da qualcuno perché ovviamente un coach ti manda sempre una visione della vita un po più lucida esterna ovviamente quelli bravi tenete il diario perché scrivere è tutta un'altra cosa non ci si inganna e automaticamente si mette nero su bianco una visione più chiara molto più chiara delle cose e da lì i passi diventano più chiari comunque la parola d'ordine per migliorare la nostra vita è quella di fare ordine cioè di mettere ogni cosa al suo posto se si riesce a fare ordine nella propria vita a stare del nostro a non invadere le competenze altrui nel lavorativamente parlando né sentimentalmente parlando né professionalmente parlando la vita diventa un incastro perfetto di binari no con le vite degli altri che veramente merita di essere che così merita di essere vissuta quindi energia di fuoco interessantissima mista ad energia di aria una luna internazionale una luna piena in sagittario di sapore internazionale quindi nuovi scenari si potrebbero delineare nel mondo in questo mondo a livello sicuramente economico ragazzi finché c'è il nodo nord in toro siamo nell'asse della materia qualsiasi cosa ci propinano qualsiasi cosa accada a una finalità l'economia i soldi e il giro di denaro vediamo che cosa accade a livello così internazionale forse anche a livello sportivo non sono molto ferrata in questo momento sulla materia non sto non sto seguendo le cose ma non credo che ci novità vediamo tutte le competenze del sagittario da qui a un mese avranno modo di esprimersi e quindi vediamo che cosa ci porta questa nuova energia ma dopo la sigla cari amici dell'ariete cari amici con l'ascendente ariete questa settimana come anticipato nell'introduzione c'è un cielo di fuoco interessantissimo a marte alla luna nera si aggiungono venere e la luna piena in sagittario quindi venere marte ragazzi in leone vi portano amore portano e riportano amore fortuna divertimento svago successi successi conquiste avanzamenti insomma è un momento assolutamente positivo e grazie alla luna piena in sagittario nel giro di 28 giorni fino alla prossima luna avrete la possibilità di raggiungere degli obiettivi di avere di raggiungere degli ambiziosi traguardi e di di sentirvi come in un percorso in un processo di avanzamento di conquiste che potrebbe portarvi molto più lontano rispetto a dove siete adesso diciamo che il prossimo mese quindi dal abbiamo detto dal 4 giugno fino al 3 luglio giorno della successiva luna piena che sarà in capricorno voi imparerete molte cose non sarete più gli stessi che gli stessi di di adesso dell'inizio di giugno 2023 quindi o ci sono lauree viaggi di lavoro corsi di aggiornamento avanzamenti decidere di fare un concorso scegliere di tornare a studiare quindi iscrizioni no iscrizioni pre iscrizioni se siete giovanissimi probabilmente state decidendo cosa fare delle superiori se siete giovani sempre giovanissimi state vi state per diplomare e state decidendo quale facoltà scegliere cioè qui c'è c'è veramente oppure state per raggiungere un paese estero un posto lontano un posto lontano dal vostro magari distante diverse regioni se non proprio oltre confine per per fare un'esperienza questo è un mese di crescita questo un mese di esperienze che farete o insieme al vostro amore o grazie al quale ritroverete fortuna ed amore una cosa non esclude l'altra le due cose sono incrociate e forse incontrerete l'amore durante un viaggio o veramente vi riconciliate con il vostro partner e partite vi risentite con delle persone che non sentivate da un po c'è altissima questa possibilità con l'apertura di una nuova possibilità per ricominciare qualcosa in realtà questa diciamo quella dei contatti fortunati è una realtà che riguarda sia il lavoro sia lo studio che i sentimenti che quegli incontri che vi fanno bene che portano fortuna è un momento alto altissimo e voi vedrete che se torna qualcuno o comunque se fate delle esperienze se ritornate sui libri se decise fate un corso d'aggiornamento grazie a questo saturno in pesci voi vi accorgerete che non siete più quelli di prima già e già questo vi farà capire che ci sarà poi un ulteriore avanzamento proprio di completezza della persona e di maturazione perché questo saturno in pesci vi sta piano piano giorno per giorno facendo diventare molto più profondi molto più intro anche introversi in alcuni momenti no proprio perché state come quando una persona è cambiata rileggi un libro e si accorge che adesso vede delle cose che prima non vedeva adesso vi sta accadendo con la realtà ed è arrivata milla tra l'altro in un decoroso silenzio quindi sarà una cosa se la prendiamo così come gli sciamani che leggevano dagli animali e dagli eventi della natura facciamo un po gli sciamani no che a me piace tanto la leggiamo come una cosa che arriverà così insordi una cosa bella una consapevolezza bella nuova una crescita nuova che arriverà silenziosa romperà quindi vi porterà bene e vi porterà tanta tanta soddisfazione quindi c'è una crescita generale e l'amore ragazzi amore fortuna se siete degli sportivi se siete degli sportivi se siete dei creativi creativi di qualsiasi genere la moda la musica l'estetica l'arte la pittura ditemi qualcosa il cinema la scenografia le sceneggiature la poesia qualsiasi cosa se siete dei creativi questo mese è un momento di grande esposizione di grande vena creativa quindi o butterete giù qualcosa scriverete delle cose molto interessanti oltre all'amore oltre alla passione a palla o veramente avrete un'esplosione di creatività per cui ci sarà una grande produzione sia da soli che insieme ad altri potreste raggiungere anche con le produzioni un livello qualitativamente più alto che sarà riconosciuto e che ragazzi dalla prossima dal prossimo mese dalla prossima nei paraggi della prossima luna piena quindi stiamo parlando di di luglio potrebbe portarvi anche ad un upgrade quindi ad un riconoscimento pubblico anche da parte degli altri questo è veramente un momento gratificante forse adesso con tutti questi pianeti di fuoco diversi dal vostro però vi renderete conto inizierete a percepire che forse giovinariete qualcosa ha fatto forse tutto quel tumulto tutte quelle complicazioni tutte quelle quelle situazioni un po travagliate no per cui avete dovuto combattere per riguadagnare il benessere in questo anno tutte queste sfide che sembravano non portare poi alla fine sembravano essere avvicendarsi no cioè sembravano caratterizzate da una sfida continua adesso vi fanno forse rendere conto tutti insieme tutto in una volta quanto in realtà comunque siete cresciuti avete acquistato competenze e guardate alla vita in una maniera diversa e forse adesso siete pronti a quella trasformazione a quella discesa dentro di voi a quelle prese di coscienza ad affrontare voi stessi no prendervi anche la responsabilità che quello che non gira bene probabilmente dipende dalla vostra psiche dai fantasmi che non avete guardato in faccia da una serie di da una sorta di bagaglio psicologico no inconscio che finora presi in tantissimo dalla frenesia della vita quotidiana delle sfide quotidiane delle rivalità no della competizione di quella passione che voi mettete in ogni giornata anche per fare anche per andare al bar a prendere il caffè no che diventa una un'esperienza a volte una dimostrazione di forza magari presi prima da questa esteriorizzazione dell'energia vi eravate dimenticate della vostra interiorità ma è lì che si cela la chiave di tutto e adesso probabilmente siete pronti a fare quello che dovete fare migliorano anche i matrimoni se qualcuno si trovava in una situazione di bilico perché con giove in ariete effettivamente di liti con il partner ce ne sono state molte i soldi dovrebbero adesso probabilmente escono ancora però ragazzi dalla prossima luna piena dalla prima e seconda settimana di luglio che l'anticipo perché altrimenti vi mettetevi spaventate per le vostre cari finanze andranno meglio anche quelle quindi tutto quello che state imparando adesso se anche si tratta di corsi di aggiornamento di esperienze di coaching di crescita personale di qualcosa di spirituale nuovo che annettete alla vostra vita tutto questo che arriva adesso si sedimenta a un certo punto scoprirete avrete chiarezza in più per quello che volete fare proprio nella vita concreta e come farlo quindi adesso imparate e poi realizzerete qualcosa il momento è molto interessante ripeto ottimo l'amore la crescita questo è veramente un mese da 8 proprio voto 8 se non di più non mi voglio sbilanciare perché sai non tutti hanno il tema natale uguale fatemi sa e ognuno risponde a modo suo insomma c'è anche chi arriva un attimino più ammaccato fatemi sapere nei commenti come vanno le cose un bacio grande e godetevi questa questo cielo di fuoco buona settimana cari amici del toro cari amici con l'ascendente toro eccoci arrivati a voi questo un mese di fuoco il vostro governatore venere esce dal segno del cancro che è un segno amico e che vi ha soddisfatto tanto vi ha fatto venire in queste tre quattro settimane soprattutto il mese di maggio vi ha fatto venire voglia di tante cose siete riusciti a darvi delle gratificazioni adesso passa nel ruggente segno del leone l'energia si fa un po più tesa un po più impegnativa un po movimentata in famiglia vengono fuori cose da sistemare venere si congiunge a marte quindi o c'è da prendere in mano la situazione per qualcuno per qualcosa e qualcuna situazione che non può più aspettare quindi magari risolvere qualcosa magari nei sentimenti ma questo con questa frase posso riferirmi a chi ha voglia di sta mettendo su famiglia cioè ha incontrato qualcuno e ha intenzione di mettere su famiglia con quella persona e quindi da qui il movimento l'intensità le dinamiche l'energia gli sforzi quindi un periodo movimentato senz'altro sicuramente stancante ma che porterà a dei risultati oppure c'è chi con giove in toro ha già capito che vuole non vuole stare più in quella famiglia non vuole stare più in quella casa quindi giovanissimi che vanno a studiare a vivere fuori adesso si stanno impegnando per far sì che questa cosa si realizzi e quindi stanno trovando dove andare e quindi muoversi e cambiare ovile oppure c'è chi ormai non può più aspettare e deve iniziare dei lavori di ristrutturazione in casa magari cose che si erano arenate nel 2021 2022 a causa di saturno oppure c'è chi vive vive in una famiglia vive una relazione di coppia scusate c'è milla che bofonchia oppure c'è chi vive una relazione di coppia e magari con giove in toro sente la volontà di emanciparsi da qualche situazione oppure data la congiunzione di venere e marte il leone con la lilith cunitoro quelli che i meno pacifici con questa lilith il leone con questa luna nera il leone in un segno fisso stanno ruggendo un po troppo stanno imponendo il loro volere un po troppo in casa stanno spadroneggiando non sono tranquilli stressano il partner genitori i fratelli la famiglia lo vessano fra un po lo mandano via nel senso dipende dall'operato delle persone con gioventoro c'è l'evoluzione delle situazioni ma dipendono dal nostro per operato cioè la responsabilità di quello che facciamo è nostra ok cioè giove non è un passepartout per coprirci di qualsiasi cosa giove come tutto il resto dei pianeti premia chi si è impegnato ha lavorato chi ha sudato e non premia chi cercava la pappa pronta voleva che gliela portassero gli altri e quando si arriva ad un punto di saturazione probabilmente toglie la sedia da sotto al sedere c'è anche questa eventualità questo per tutti i torelli che si lamentano sotto ai commenti poi ovviamente per i toro vale anche l'esempio che ho fatto nell'introduzione ma non è detto che l'abbiano ascoltata tutti dopo due anni tre anni di quadratura di saturno ci si è messo anche giove poi hanno quadrato urano quindi insomma urano che nel segno del toro quindi molti toro hanno patito e non poco toro ascendente toro lune in toro marte in toro venere in toro insomma chi più ne ha più ne metta ha sicuramente patito più pianeti in toro avete nel tema natale più difficoltà avete avuto appena entra giove in toro arriva la possibilità di rimettervi in carreggiata ma ovviamente questa è la con marte e leone è la parte iniziale quella che richiede più sforzi infatti ho fatto l'esempio se si esce fuoristrada no immaginate che un transito nefasto un transito eccessivamente sfidante abbia mandato gli amici del toro dell'ascendente toro fuoristrada ci si rimane per un po no uno vede che da solo non riesce fa le manovre si impantana sempre di più a un certo punto quando arriva giove nel segno è il carattrezzi che viene arrivano arrivano gli aiuti arrivano a tirarvi fuori agganciano la macchina al mezzo e poi quella alla fase più impegnativa perché è la fase di risalita e deve collaborare anche l'amico toro che magari è stanco e sbraita e alle ottave basse del toro che non voglio più di fare niente no perché ha lottato magari abbastanza e una delle reazioni tipiche del toro è l'abbandono no dire va bene basta fate mi metto basta ho fatto troppo troppo stress cosa che il toro rifugia tantissimo invece questa con marte in leone è quella fase in cui bisogna spingere tutta avanti tutta le retromarce tentare le manovre collaborare con un'energia forte con un'energia da carro armato che quella di marte e leone che per un toro è scomoda no perché perché una spinta forte un impegno intensissimo ma il 10 luglio finisce e poi se qualcuno se il toro se l'amico toro avrà fatto i compiti cioè se l'amico toro non avrà fatto passare questo transito di marte e leone a sbraitare o comunque a concretizzare poco si sarà avrà fatto il suo sforzo dal 10 quando entrerà marte nel segno della vergine voi immaginate un marte in vergine no un segno di terra l'energia di terra trigona giove trigona urano finalmente fino al me finalmente vi potete gustare i risultati degli sforzi dell'impegno profuso questo è un momento di impegno sì assolutamente sì potete tirarvi indietro io direi di no direi di no perché con questi pianeti la venere è unita a marte e quindi bisogna fare bisogna fare siete sotto gli occhi di tutti bisogna come dire bisogna dare l'impegno e l'energia di cui avete bisogno quindi grande energia in famiglia se siete in politica o se lavorate nelle istituzioni è un periodo di grande energia non soltanto magari nella famiglia anche nel luogo in cui vivete in cui vi trovate insomma c'è dell'impegno magari lavorate in delle associazioni poi dal 10 luglio ci sarà il meritato riposo se siete degli adulti e con gioventoro vi arrivano delle novità di lavoro in questo mese con marte venere congiunti potreste ricevere delle proposte di lavoro da lontano per cui potrebbe iniziare un periodo che insomma vai a vedere tu se è definitivo o se è solo un periodo in cui magari dovrete raggiungere una sede di lavoro lontana più o meno lontana e su questa è tornata milla quindi se vogliamo fare un po agli sciamani la prendiamo per buona l'amore dovrebbe andare meglio da luglio ripeto questo è un momento molto molto intenso più un periodo pragmatico però però quando venere il vostro astro governatore si congiunge a marte qualche passione infuocata dovrebbe qualche ritorno di passione infuocata dovrebbe scapparci quindi anche colpi di testa anche cose che esulano no da dalla routine dall'abitudine insomma comunque la famiglia il luogo d'origine immobili i familiari il metter su casa le passioni anche le dispute no tra familiari cognati cose fratelli per questioni materiali potrebbero essere all'ordine del giorno ragazzi dal 10 luglio le cose andranno meglio e milla si mette quasi in piedi quindi andranno meglio la luna piena in sagittario parallelamente apre uno scenario che durerà un mese di rina di morti e rinascita di situazioni che riguardano le cose che abbiamo detto quindi il cambiare casa il cambiare dimora ristrutturarla affrontare questioni ereditarie questioni economiche e materiali con i con i familiari anche con il partner con il coniuge wow milla scavalca tutte le protezioni che ho messo e sta per arrivare protagonista io metto in salvo occhiali collane dal dal dai quindi si apre questa finestra temporale di morti e rinascita di situazioni no familiari immobiliari di soldi di questioni con i fratelli di eredità che si possono sistemare se avete avuto dei problemi con delle questioni ereditarie questo mese fino al 3 luglio ragazzi sarà assolutamente promettente per risolvere anche queste cose oltre che se fate dei percorsi di crescita se lavorate su voi stessi questo mese è strepitoso per spezzare catene carmiche atteggiamenti disfunzionali ereditati dalla famiglia rapporti complicati con qualche farmi familiare insomma si risolve qualcosa anche più di qualcosa ricordiamoci che c'è giove giove fa venire a galla se siete sole in toro luna in toro che ascendente toro le cose vengono un po 360 gradi no anche se mi avete chiesto ma ci fa il video su giove sui pianeti luminari sole luna e ascendente ve lo dico qui con giove fanno sbocciare lavorare emergere situazioni a 360 gradi scusate se allungo le mani ma temo che milla ribalti il telefono lo si sta facendo i grattini con il telefono perdonatemi quindi se siete toro ascendente toro luna in toro l'espansione l'esposizione di giove e i suoi effetti quindi su quello su cui lavorare mietere successi risolvere e a 360 gradi venere e marte invece ragazzi sono i pianeti sentimentali quindi le svolte arrivano lì però ascoltate il mio gioventoro che bene o male ne abbiamo parlato quindi tante cose molte materiali concrete ma ragazzi quando si è parallelamente cose energetiche interiori nostri che abbiamo ereditato ricordatevi che quando risolviamo qualcosa dentro di noi si sistema anche la materia a 360 gradi sentimentale materiale lavorativa rapporti interpersonali l'ultima chicca che vi do nei prossimi tre anni se vi arrivano dei progetti e delle persone da mettere al team selezionate bene annettetele quest'anno entro maggio 2024 e lasciate in stand by progetti e cose nel transito di giove in gemelli ma poi insomma abbiamo tempo per riparlarne una buonissima settimana godetevi questa luna fate cose buone fatemi sapere nei commenti che cosa succede un bacio grande buona settimana a tutti cari amici dei gemelli e cari amici con l'ascendente gemelli questa settimana c'è una bella luna piena in sagittario che è il segno opposto al vostro però però questa luna piena anche se in opposizione porterà un'evoluzione nei sentimenti nelle relazioni nei contratti di lavoro nelle società perché perché è sostenuta da venere marte nel segno del leone quindi ci saranno notizie incontri contratti contatti fortunati molto fortunati già da inizio settimana perché la settimana inizia con la luna piena quindi si apre un mese si apre un corridoio temporale dal 4 giugno quindi proprio giorni del vostro compleanno fino al 3 luglio all'interno del quale voi vedrete che ci saranno dei movimenti dei contratti degli incontri che porteranno novità al lavoro e in amore o comunque nei rapporti con gli altri potete avere anche delle notizie positive si aspettavate l'esito di qualche di qualche processo di qualche concorso ovviamente dovrebbero essere proprio in positivo mille vero c'è milla che mi guarda che si agita quindi è un è un momento molto fortunato è un momento di incontri è un momento di svolto ovviamente è un momento anche di cambiamenti che potrebbero iniziare alla spicciolata prendere poi il volo e manifestarsi l'anno prossimo però qua sotto sotto si muove tantissima energia perché io ricordo gli amici dei gemelli che hanno gioventoro congiunto ad urano nel segno prima del loro nel segno del toro e questo succede quando ci sono dei grandi transiti di cambiamento nel segno precedente al nostro è come se nel nostro settore dell'inconscio iniziassero così in maniera segreta a muoversi delle energie a muoversi delle energie che ovviamente avranno bisogno di un tempo di di gestione di elaborazione ma che poi quando i transiti si sposteranno nel vostro segno ufficialmente daranno luogo ad un cambiamento perché noi sappiamo sempre che il cambiamento avviene prima dentro di noi prima inizia dal pensiero da un'idea da una mattina uno si sveglia e inizia a sentire che forse vuole qualcos'altro no ci pensa ci ripensa poi a volte capita che quel pensiero si perda poi ritorni e quando rimane poi proprio in funzione della legge d'attrazione quando rimane si ripete si ripete si ripete finché non inizia a convincerci a creare delle così nelle convinzioni iniziamo a vederlo quando un pensiero si è ripetuto talmente tante volte che iniziamo a vederlo a immaginarlo ragazzi voi siete dei mercuriali voi siete dei figli del pensiero della parola no dell'intuito anche della telepatia quando una cosa iniziate a vederla quando potete immaginarla poi potete anche farla succedere alimentandola e quindi questa settimana si apre questa novità questa questo corridoio energetico che porterà delle delle notizie delle comunicazioni la buona notizia è che dall'undici anche mercurio che il vostro governatore resterà tutto il tempo nel segno dei gemelli quindi mercurio il pianeta governatore torna a casa farà ottimi aspetti con venere fare ottimi aspetti con marte quindi si chiariscono questioni di lavoro se bene se non state pensando di andarvene potreste avere delle promozioni eccomi la si è non lo fa mai si accoccolata sotto al sotto alle luci potreste avere delle promozioni potreste adesso magari ancora non lo sapete ma per voi sono previsti degli spostamenti se siete soli a livello proprio sentimentale qui ci sono degli incontri interessantissimi che potrebbero sbocciare so prendere largo velocemente e dare dei risultati se vivete delle situazioni stancanti sia lavorative che sentimentali qui questo mese con questa luna che muove fa evolvere i rapporti e trigono a tenere marte e leone voi capite che se non state più bene in un posto con questi bei transiti si creano gli incontri presupposti affinché il destino ricordiamoci sempre che c'è giove congiunto al nodo nord il destino vi vi offra la possibilità di essere più felici una cosa un suggerimento siccome venere marte e leone sono congiunti a lilith alla luna nera e leone se siete di quelli che fanno il vocione grosso sapete insomma a volte contraddire un gemelli può riservare delle sorprese cioè si può assistere a delle reazioni che non avrebbero mai detto perché il gemelli ha il suo ego è difficile che ammetta di avere sbagliato quindi abbiamo una psicologia un po adolescenziale e quando si è giovani è più difficile dire oggi ho sbagliato scusami no quindi fa il famoso passo indietro poi c'è una sorta di grande orgoglio di grande vanità nella struttura proprio del no di chi nasce nel segno dei gemelli se siete tra sono quei gemelli che esagerano un po con vanità orgoglio quando si impalesano quando si manifestano quando si presentano quando vanno in un posto magari vogliono stare al centro dell'attenzione attenti perché c'è la lilith in leone congiunta a marte a venere quindi potreste esagerare e incrinare qualche rapporto con qualcuno questo col partner e attenzione a non se siete se avete già delle tensioni in atto al lavoro se siete un po comandini in qualche modo attenzione a non discutere anche sul posto di lavoro perché i transiti sono buoni ma c'è la luna nera che fa emergere comunque qualcosa che noi abbiamo dentro non una possessione demoniaca perché molti hanno paura oddio cosa farà la luna nera niente fa rivelare chi siamo fa rivelare il caratterino che abbiamo perché porta alla ribalta quindi proprio plate al mente sarà difficilissimo contenere il nostro ego quindi se ci riteniamo superiori a qualcuno se siamo un po arrogante sia un po dominanti non riusciamo a stare nel nostro perché comunque una lilith in leone oltre ad essere dominante comandina è una lilith che ci fa dire agli altri quello che devono fare anche quando siamo gli ultimi no magari siamo appena arrivati in un posto di lavoro faccio un esempio però sapete a volte la situazione sfugge di mano lavorate su queste cose osservatevi perché quello poi dipende da voi nel senso che il cielo vi aiuta però ovviamente siccome siamo su un pianeta evolutivo qualcosa dobbiamo fare un lavoretto interiore no di monitoraggio di consapevolezza di crescita di noi stessi dobbiamo farlo cioè dobbiamo essere consapevoli chi siamo ed essere onesti con noi stessi quindi noi dobbiamo sapere chi siamo noi è importantissimo che noi conosciamo i nostri punti deboli e nostri punti di forza perché poi se non ci conosciamo ma ci raccontiamo che siamo tutt'altro è lì che andiamo a prendere la fregatura proprio perché facciamo delle reazioni che non abbiamo preventivato quindi a livello razionale ci facciamo un film poi nel pratico scombiniamo un po quindi occhio all'ego controllo dell'ego se riuscite a rendervi conto di quando state esagerando sappiate che ci saranno tante belle novità avrete un sacco di riscontri veramente se state aspettando di incontrare qualcuno di ricevere notizie proprio anche a livello legale se avete fatto dei concorsi mandate curriculum ragazzi studio lavoro comunicazioni chiarimenti contatti con ragazzi confronti questo è il momento di osare non esagerate perché c'è la liti leone quindi magari uno veramente esagera ovviamente questo non accade però insomma io devo dirvelo voi però provateci con buon senso con buon senso sappiate che un momento ottimo se studiate programmate gli esami entro il 3 luglio perché potrebbe però potrebbero essere fantastici ok potrebbe essere anche un ottimo momento per chiedere la tesi mandate curriculum le comunicazioni veramente benedette se dovete prendere delle decisioni magari sugli studi da fare su un corso se dovete debuttare ragazzi sarà meglio ancora la prossima settimana quando mercurio sarà nel segno dei gemelli ma se dovete aprire attività negozi pubblicare libri articoli rispondere a qualche offerta che vi è stata fatta lanciatevi tra altro questo sarà un anno di grandi successi professionali fatemi sapere nei commenti quali sono le imprese fortunate le notizie fortunate che ricevete un grandissimo in bocca al lupo e buonissima settimana cari amici del cancro cari amici con l'ascendente cancro benvenuti alla settimana di previsioni dal 4 all'11 giugno benvenuti a questo agglomerato di pianeti di fuoco perché abbiamo la luna piena in sagittario che smuoverà insomma il vostro quotidiano qualche questione lavorativa qualche decisione da prendere ma anche la vita e tutti i giorni ci sarà un mesetto dal 4 giugno fino al 3 luglio in cui è insomma ci saranno ci sarà movimento molto movimento si viverà un po alla giornata ci sarà entusiasmo novità è come se vi trovasse a fare tipo un percorso non la conquista di qualcosa ora che sia un corso che sia un trasferimento lavorativo che siano nuovi colleghi che arrivano che siano lavori di ristrutturazione che siano così dei viaggetti quotidiani degli spostamenti che siano degli allenamenti o delle gare un periodo di intensa vitalità e quindi anche di gare di competizioni di sport o che sia una vacanza itinerante diciamo che il vostro quotidiano per questo mesetto insomma si inaugura questa settimana con la luna piena in sagittario sarà bello movimentato la buona notizia è che la luna piena in sagittario forma degli ottimi aspetti con venere e marte quindi tutto ciò sarà piacevole sarà assolutamente piacevole quindi si chiude il giorno 4 il corridoio energetico iniziato con la luna piena in scorpione del 56 maggio che ha portato delle novità per quanto riguarda la vostra vita sentimentale per quanto riguarda i figli per quanto la volontà di averne di non averle se li avete delle vicende legate ai figli all'amore quindi anche delle evoluzioni sentimentali o anche delle novità che hanno riguardato il partner quindi o vi siete lasciati o vi siete presi o ci sono state proprio delle novità di un partner che viene assunto che si laurea che viene licenziato che cambia lavoro che si scrive all'università cioè a seconda dell'età che avete anche dal vostro tema natale si può vedere se la vostra esistenza se le vostre vicende ma soprattutto il vostro umore i vostri stati d'animo le vostre ansie le vostre preoccupazioni visto che siete i figli della luna possono dipendere anche dal partner no o comunque dalle persone che vi circondano comunque ragazzi la buona notizia io ve lo ricordo sempre giove è uscito da una posizione sfiancante quella di giove in ariete quindi l'asse lavoro famiglia cercare di barcamenarvi tra le tensioni lavorative quelle familiari i viaggi gli spostamenti le preoccupazioni è finito giove è un ottimo aspetto mi avete scritto alcuni mi hanno scritto che non riescono ancora a prendere il buono da questa da questo transito di giove e io nell'introduzione e anche nel segno del toro ho risposto a questa cosa cioè se ci sono stati dei grandi transiti sfidanti almeno nell'anno precedente e come se nel vostro percorso di vita voi foste fosse usciti fuori strada no quindi vi siete impantanati avete lottato magari da soli con le forze che avevate vi siete impantanati ancora di più adesso con gioventoro è arrivato il carattrezzi no sono arrivati i soccorsi gli aiuti si è fermato qualcuno e quindi c'è l'energia di giove che è entrata insieme a quella di marte e leone quindi sono due segni fissi tosti che vanno integrati è chiaro che adesso fino al 10 luglio circa c'è la parte più intensa cioè quella quando la mai fuoristrada ti aggancia e tu devi fare una forte retromarcia fare le manovre spingere anche tu per collaborare a farti tirare fuori ok perché non possiamo stare qui con la pappa pronta e dobbiamo sempre collaborare con gli astri quindi se vi eravate impantanati in maniera importante se c'erano state delle vicende importanti questa è la fase di recupero che prevede un ennesimo sforzo quindi si vede che voi siete molto siete intensamente coinvolti in investimenti di energia personale o vi state spendendo molto per un progetto o vi state spendendo molto per affrancarvi magari dalla dipendenza di qualsiasi cosa ragazzi un lavoro una relazione una dipendenza un vizio un debito voi vi state impegnando tanto per conquistare qualcosa per dimostrare a voi stessi e poi anche agli altri quanto valete quindi c'è un grande impegno non ce lo raccontano marte venere e luna nera e leone non esagerate non esagerate perché la luna nera e leone stimolata da questi due pianeti fa venire a galla insomma la nostra voglia di di protagonismo anche quanto siamo disposti a rubare la scena anche magari quanta correttezza abbiamo nel conquistare la scena la luna nera e leone se non abbiamo lavorato molto sui nostri sulle nostre emozioni per un cancro visto che se cancro ascendente cancro luna in cancro visto che sempre di luna si tratta può essere quel punto debole quel periodo debole in cui visto che il leone vengono messi vengono plate al mente fuori le parti meno nobili di noi ok perché quelle non pensate che la luna nera sia una possessione diabolica quindi oddio cosa mi farà fare la luna nera la luna nera niente ci farà porterà alla ribalta perché una luna nera in un segno plateale legato proprio all'esposizione all'esibizione al palcoscenico no quindi tutto quello che è chiarezza luce trasparente ai noi porta alla ribalta le emozioni più basse l'arroganza appunto dicevo la voglia di dominare gli altri la voglia di comandare la voglia di primeggiare l'invidia se ci sono se ci avete lavorato non verranno fuori quindi siccome siete già molto siete intensamente protesi nel dimostrare quello che sapete fare ripeto vi state passate conquistando un vostro posto nel mondo un vostro ruolo vi state vi state spendendo tanto in questa grande corsa no in questa in questo transito intenso osservatevi e cercate di non eccedere su instagram e qui sul canale youtube ho messo il video dedicato alla lilith alla luna nera perché molti mi hanno scritto dio la luna nera in cancro ragazzi noi abbiamo una luna nera e leone da agosto dell'anno scorso e uscirà nel 2024 quindi sono due anni ne parlo adesso perché questo è stato il momento più intenso con la congiunzione di marte perché marte la resa plateale finché c'è stata l'opposizione di saturno si brontolava bronto lavamo tutti ma rimanevano magari nelle mura domestiche oppure chi proprio se ne è uscito ha ricevuto il suo stop il suo ban perché insomma saturno è il maestro è il severo maestro severo ma giusto quindi ce l'avremo ancora questo è il momento più intenso se volete approfondire guardate il video un video velocissimo parola di scout che non ho mai fatto però è velocissimo davvero quindi occhio a fare il passo più lungo della gamba occhio all'arroganza occhio a voler conquistare qualcosa che magari per voi è troppo parlo di persone sentimenti relazioni magari anche ad acquistare quindi occhio alle spese occhio all'utilizzo che fate delle vostre risorse economiche emotive e energetiche per dimostrare quanto siete forti o per soddisfare un bisogno di pancia che è troppo esagerato quindi occhio agli investimenti no occhio a occhio anche alle azioni plateali ma questo ovviamente se avete un po un emotivo fuori controllo insomma nella stragrande maggioranza dei casi vi accorgerete che c'è una tendenza all'eccesso a no a debordare un attimo con appunto con l'esibizione di sé ma ovviamente la controllate un po di spese un po di spesucce per il comfort per il lusso per le bellezze insomma vi viene da allargarvi se le risorse in questo momento sono poche causa quadratura di giove state attenti c'è una bella protezione da parte degli amici quindi questo fatto di questa luna in sagittario che può portare a delle evoluzioni anche lavorative potrebbe portarvi a lavorare con un team fantastico comunque che vi piaccia tanto dove se lo cercate potete trovare l'amore se non ce lo avete e oppure a fare un successo legale contrattuale un investimento che vi fa raggiungere un progetto cui state meditando da diversi anni fatemi sapere nei commenti quello che succede dimenticavo di dirvi che la scorsa era una piena è stata piena di creatività quindi forse siete diventati genitori forse state pensando di farlo forse avete creato qualcosa cioè se lavorate nella creatività se siete dei creativi probabilmente avete partorito qualcosa fatemi sapere che cosa un bacio grande vi aspetto nei commenti buonissima settimana a tutti cari amici del leone cari amici con l'ascendente leone benvenuti alla settimana dal 4 all'11 giugno una settimana in cui già il sole è in un segno d'aria tutto frizzante quello dei gemelli che a voi piace tanto marte è già nel segno del leone questa settimana la luna piena in sagittario del 4 e venere in cil 5 entrano nel leone creano innanzitutto uno stellium il leone di fascino passione lusso benessere per voi e trigona la luna piena novità anche sentimentali o bellissime allora in tutto un momento molto molto fortunato io vi direi di osare questo è un momento molto fortunato con la luna piena in in sagittario per l'amore per i figli se li volete per i figli se ne avete quindi spingeteli incitateli a fare a fare qualcosa di bello forse è un momento in cui fanno delle gare i primi viaggi oppure si stanno diplomando stanno prendendo sono andati bene a scuola saranno per avere le pagelle questo è un mese si apre questa settimana dal 4 un corridoio energetico all'insegna della luna piena in sagittario che fino al 3 luglio 2023 porterà tutte queste belle novità se siete dei creativi fortuna creatività ottimo affiatamento con il team se siete individualisti una grande produzione che sia musicale scritta di pittura ragazzi di bellezza se lavorate nell'arte ovviamente non mi dite che non sono arrivate le chiamate se le aspettate queste arrivano questo è un momento molto 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 fortunato marte venere vi rendono potenti grintosi felini agguerriti belli seducenti alla ribalta attenti solo alla luna nera il leone di cui stiamo parlando perché questo da una nera il leone è una luna che noi abbiamo già da da agosto dell'anno scorso a fase alterne la lilith sempre un modo un moto irregolare oscilla fra due massimo tre pianeti va avanti va indietro ma in moto retrogrado quindi dirvi tutti i giorni in questa passata nel segno del leone è impossibile no è un lavoraccio tenete conto che fino al 19 se non erro febbraio 2024 dal 2 agosto 2023 a giorni alterni a fase alterna settimana alterne sarà nel segno del leone quindi quando non si alterna con il cancro e in alcuni momenti con la vergine potrebbe lavorare a vostro favore o sfavore a seconda se a seconda di nel grado di consapevolezza che avete per evolvere se siete ancora nella fase dimmi quello che succede così mi regolo quindi nella fase in cui magari non vi prendete la responsabilità degli eventi che accadono nella vostra vita e che è da ricondurre all'energia che emanate mettete che l'esterno proiezione di voi se siete ancora nella fase che succederà dimmelo tu cosa devo fare allora questa lilith può essere scomoda perché perché fa semplicemente venire a galla leggo l'orgoglio la volontà dominante il protagonismo po di invidia magari verso chi brilla troppo la voglia di comandare insomma no quelle sgomitate da ottave basse di leone se ci sono le fa venire fuori e quindi saranno difficili da controllare tra l'altro perché voi lo sapete meglio di tutti noi i pianeti leone sono fatti per essere manifestati cioè l'energia dei pianeti leone vuole un palcoscenico vuole una ribalta la cerca anche quando non lo sa e quindi è difficile no tenere sotto traccia nascoste le cose dell'energia leonina quindi la luna la luna nuova luna nera in leone potrebbe manifestare sollecitata da venere attraverso la vanità sollecitata da marte attraverso l'aggressività l'arroganza le ottave basse della personalità di ciascuno nella misura in cui quella persona non ha non ha consapevolezza di sé perché a volte noi non sappiamo se non abbiamo fatto un percorso un'autosservazione se non conosciamo i nostri reali pregi i nostri reali difetti ci raccontiamo che siamo fatti in un modo ma magari siamo fatti in un altro cioè noi siamo quello che facciamo non quello che diciamo quindi noi siamo anche le reazioni che abbiamo quando veniamo pungolati ecco questa è una lilith che si muove nell'ambito delle reazioni irrefrenabili incontrollabili se ci piace qualcuno e finora sia riusciti a gestirlo magari viene fuori no quindi siate onesti con voi stessi se ci sono delle situazioni che possono crearvi attrito andateci come dire prevenuti cioè andate facendo un passo indietro senza magari esibirvi contando respira contando fino a 10 respirando cioè contenete la spinta alla manifestazione perché se non siete propriamente padroni della vostra pancia delle vostre emozioni può scappare qualcosa ok tutto qui è giusto per essere prudenti se invece siete già in una fase di risveglio di crescita personale avete capito che tutto quello che accade intorno a voi bene o male emanazione di quello che abbiamo all'interno di quello che avete in questo caso all'interno allora può essere una fortuna questa luna nera perché vi farà vedere quantomeno sentire anche attraverso le emozioni se siete in presenza le sentite le monitorate quanto avete lavorato sull'ego sull'orgoglio sul protagonismo sulla verità sul controllo degli altri sul bisogno di importanza insomma su tutte le solite cose anche sulle scorrettezze sull'invidia queste sono ottave basse del leone perché a volte quando c'è un ottava molto bassa se vuole brillare vuole farla a tutti i costi anche a costo di fare lo sgambetto a qualcuno no e poi se vuole una cosa se la deve prendere quelle sono le ottave basse perché è giusto prendersi quello che vi interessa nei limiti della legge del buon gusto del buon senso e della correttezza queste sono fondamentali altrimenti si va a ottape basse e che succede siamo brutti e cattivi no si paga pegno ritorna il karma per la legge di causa effetto questo è grande senso pratico solitamente ci dovrebbe spingere a imparare quali sono le leggi della vita per non cacciarsi nei guai gratuitamente perché tanto il karma noi ce lo abbiamo sicuro altrimenti non saremo qui quindi occhio alle smarciassate ma se siete in una fase di risveglio di cammino sapete lo vedete e quindi è un utilissimo crash test per vedere a che punto siete del percorso evolutivo della trasformazione nel famoso piombo in oro e noi ci siamo capiti quindi in tutta questa energia no in tutte queste occasioni qui sarete molto audaci molto corteggiati molto piacenti molto pronti a fare con uno scatto felino raggiungere un obiettivo quindi ragazzi quasi parla di promozioni di conquiste di case nuove di trasferimenti di tutto quello che è conquista di uno status no cioè raggiungimento di obiettivi con grande determinazione attenzione vagamente ecco questa luna nera che magari fa montare un po la testa ma ovviamente a chi già ha questa problematica ma procedete essendo un momento fortunato assolutamente non state fermi ma procedete verso la vostra realizzazione personale è un momento strepitoso se non l'ho detto abbastanza oltre che per la fortuna per quindi per osare per per osare curriculum di proporsi se uno vuole cambiare no oltre a un momento molto creativo oltre al momento molto positivo per i figli è un momento molto bello per l'amore questo mese sarà un momento di conquiste se avete già un partner magari fate andate a convivere volete diventare i genitori ho fatto un bellissimo viaggio c'è un momento di grande passione e se non avete un partner beh questa volta vi sfido a non incontrare qualcuno di molto 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 interessante fatemi sapere nei commenti quali sono le belle novità che vi porta questa luna piena divertitevi quindi osate con consapevolezza e misura un grande bacio e buona settimana a tutti cari amici della vergine cari amici con l'ascendente vergine benvenuti alla settimana dell'oroscopo in chiave evolutiva dal 4 all 11 giugno questa settimana si inaugura si conclude la l'ultima lunazione quella nel segno dello scorpione che vi ha portato dal 5 maggio ad oggi nuovi contatti ritorni incontri seduzioni flirt quindi tutte cose nuove aperto uno scenario adesso il giorno 4 quindi all'inizio di questa settimana c'è una bella luna piena in sagittario che va a smuovere particolarmente le acque perché si tratta di come dire si tratta di un segno mobile quindi va a creare una croce per voi e quindi va a scardinare alcuni equilibri in che modo scardina qualcosa potrebbe concludersi per sempre ma non vi terrorizzate per sempre significa che qualcosa finisce invece qualcosa nasce un qualcosa ovviamente siamo nel campo dell'ipotesi siamo soprattutto a 360 gradi no quindi diciamo che siamo in una fase in cui c'è la fine l'inizio di tutte le cose saranno sicuramente degli inizi in realtà degli inizi molto promettenti questa luna piena in sagittario che apre questo questa finestra questo corridoio energetico che durerà fino al 3 luglio 2023 forma dei trigoni cioè degli aspetti molto interessanti molto positivi e molto promettenti con marte venere volendo anche con la lilith cioè no a parte gli scherzi sì anche con la lite con chirone diciamo che con marte con venere e quindi potrebbe anche aiutarvi avere quindi degli effetti positivi sul transito di chirone in ariete che vi sta facendo lavorare sul dna energetico cioè sul karma familiare sul modo di usare le vostre risorse sulle partenze sul modo di essere esuberanti fare delle partenze a razzo e poi magari concludere poco oppure sulle impennate caratteriali no chirone in ariete sul vedere istintivamente magari no a volte alla cieca rivali alla minima provocazione queste cose a volte la vergine le a e chirone in ariete a chi non ha lavorato su questo aspetto le sta dimostrando quindi questa luna piena in sagittario potrebbe essere produttiva interessante positiva anche per farvi capire queste cose anche per farvi risolvere qualcosa di disfunzionale c'è una figura una la ferita emotiva che chirone porta spasso nei suoi transiti nel tema natale e che a voi sta facendo lavorare sul karma familiare ecco su questa bellicosità sulla rabbia repressa sulla competizione e su questi slanci a volte incoscienti no la vergine ha una serie di cose da da vedere no cioè la ha bisogno di fare consapevolezza per quanto riguarda gli impedi i bisogni di pancia le reali necessità da quello che è un po un così un mettersi buttarsi nelle situazioni senza magari aver consapevolizzato quindi questa luna è molto interessante perché vi aiuta a gestire questo aspetto diciamo ereditato tra l'altro ragazzi questo è karma familiare è da qualcuno che avete ereditato questo buttarsi questo competere questa questa rabbia magari no questo vedere a volte derivare questo insolentirsi questa è una cosa karmica che questa luna aiuta a risolvere e poi aiuta anche a risolvere la lilith cioè gli aspetti meno nobili della del vostro inconscio che sono molto orgogliosi no e hanno c'è un grande bisogno di importanza c'è un grande bisogno di stare al centro dell'attenzione ricordate sempre che la vergine ha un inconscio leonino il nostro inconscio appartiene al segno viene descritto perfettamente dal segno precedente ok quindi questa lilith troverà dei benefici grazie a questa luna nera cioè potrebbe concludersi potreste riuscire vista la luna nera trigono a chirone e trigono alla lua alla luna piena potrebbe compiersi così un gesto di consapevolezza un fare un passo indietro un elaborare una situazione un avere una reazione diversa a qualcosa che in altri tempi magari vi avrebbe fatto fare vi avrebbe fatto avere delle reazioni magari più esuberanti no quindi qui c'è una c'è una ci sono 30 giorni c'è una fase lunare che va da luna piena luna piena nella quale avrete una trasformazione catartica di alcuni aspetti dell'ego io vorrei mentre in passato abbiamo posto attenzione sulla rabbia sulle partenze quelle un po arrazzo no che a volte finiscono in un altro modo perché chirone era sollecitato da giovena riete io adesso vorrei più attenzione sulla lilith sulla luna nera perché il leone e leone d'agosto 2022 e lo sarà fino a febbraio 2024 ovviamente con dei continui spostamenti da dal segno precedente a quello successivo quindi di solito la lì si gioca un po col tre leone il cancro la vergine leone cancro vergine in tutto un un biennio di transiti irregolari quindi consideriamo che c'è questa finestra temporale in cui la luna nera percorre a giorni alterni a settimane alterne il segno del leone quindi ci farà lavorare in quelle giornate a seconda degli aspetti che trovano sul nostro ego sull'arroganza sul bisogno di ribalta sul vincere a tutti i costi sulle su quelle che sono le ottave basse del segno del leone perché ne parliamo soltanto adesso se questa luna nera è entrata nel leone d'agosto dell'anno scorso perché adesso tocca viene viene sollecitata dal transito e dalla congiunzione di marte e leone marte e leone dal 21 maggio e adesso da questa settimana dal 5 giugno anche da venere cosa significa che adesso tutte quelle emozioni no diego di orgoglio di di dominanti di voler imporre il nostro volere agli altri di sentirci più forti avete presente no le borie del dell'essere umano adesso se non ci abbiamo lavorato rischiano di venire a galla perché marte e venere le renderanno ulteriormente plateali perché i pianeti leone non sono fatti per essere nascosti ma hanno proprio come tipo di energia quello di mettere sul palcoscenico le emozioni più anche quelle meno nobili ovviamente è un per chi vuole crescere per chi vuole fare un transito per chi vuole approfittare del transito per evolvere è un non vorrei dire una benedizione ma è una bella palestra per chi usa ancora l'astrologia per dire dimmi quello che devo fare insomma rendimi le cose facili allora ragazzi tenetevi schisci per chi non vuole guardarsi dentro non vuole assumersi il controllo e la responsabilità delle proprie azioni delle proprie reazioni per chi ragiona ancora come è ma lui mi ha fatto arrabbiare ma lei mi ha fatto arrabbiare mi hanno provocato quindi non siamo padroni della belvetta che abbiamo dentro allora per voi tenetevi schisci state accenno cercate sappiate che c'è questa parte della personalità che siccome non è addomesticata non è stata addomesticata potrebbe sfuggirvi di mano e quindi potreste avere dei modi di fare un po provocatori oppure potreste avere delle prese di orgoglio che invece di fare iniziare qualcosa di bello magari ve lo fanno finire perché perché vi siete dati la zappa sui piedi chi vincerà quello che ha la predominanza voi sapete la storia dell'homo omini lupus omini dei se avete un vago controllo delle vostre reazioni la lilith anche se sollecitata da marte da venere non potrà far danni se non ci avete mai lavorato più di tanto potreste avere delle reazioni a sorpresa quindi questo lo scopriremo solo vivendo fatto sta che quello che accadrà comunque vi aiuterà a prendere coscienza di certe cose quindi anche a nel momento in cui una cosa si vede già perde l'intensità nel momento in cui una cosa si manifesta già si scopre viene alla luce già perde di intensità quindi anche se non doveste avere un grandissimo controllo delle vostre emozioni questo accade perché magari le negate cioè dite che voi non siete così ma se una cosa diventa pubblica palese se la vedono più persone sarà più difficile tirarsi indietro e negarla quindi questo ha una sua funzione di utilità ok quindi nel transito e nell'avvenimento in un modo o nell'altro c'è il miglioramento quindi è una cosa molto buona detto ciò c'è una grande voglia di amare c'è una grande voglia di amare c'è una grande voglia di conquistare e potrebbero iniziare delle situazioni ovviamente prima in sordina e potrebbero esserci delle delle conquiste ragazzi assolutamente con poi degli sviluppi interessantissimi a luglio con cose che potrebbero prendere velocemente il sopravvento quindi l'amore inizia da questa a partire da questa settimana e presto potrebbe come dire diventare qualcosa di ufficiale questa anche la creatività anche qui inizia qualcosa di molto interessante che bolle in pentola e che poi può portarvi veramente lontano a a raggiungere quelli che sono anche dei desideri reconditi sapete che avete saturno in dissonanza anche l'anno c'è ci sono un sacco di cambiamenti nell'aria cominciamo a guardarli piano piano vediamo dove dove vi porta questa luna in sagittario piccola parentesi anche questioni c'è anche una grande attenzione no concentrazione dell'energia in questo corridoio energetico anche nelle questioni familiari e immobiliari fatemi sapere nei come ovviamente si risolvono è perché la luna trigono a marte e a venere quindi se ci sono state discussioni se c'erano cose da risolvere trasferimenti traslochi compravendite c'è una buona risoluzione del tutto fatemi sapere nei commenti come vanno le cose e vi auguro una buonissima settimana cari amici della bilancia cari amici con l'ascendente bilancia benvenuti alla settimana di previsioni di astrologia evolutiva dal 4 all'11 giugno questa settimana la settimana inizia con una luna piena in sagittario che chiude il corridoio energetico iniziato il 5 città il 5 il 6 maggio ultimi scorsi con l'ultima luna piena con la luna piena precedente che è stata nel segno dello scorpione si chiude quella fase che per voi ha avuto un impatto probabilmente determinante per quanto riguarda le questioni economiche c'è forse probabilmente c'è ancora qualcosa da sanare perché poi entrava giove in toro quindi luna piena scorpione questioni economiche forse questioni anche ereditarie quella fase dell'economia si chiude adesso se ne apre un'altra che inizia appunto il 4 giugno finirà il 3 luglio si apre questo corridoio energetico da luna piena luna piena con una luna piena in sagittario trigono a marte ma soprattutto trigono a venere nel senso la luna piena non sarà trigono a vedere perché l'abbia viene del 4 venere il 5 entra nell'amico segno del leone ma è ovvio che queste due energie trigonanti cioè che formano un ottimo aspetto vi accompagneranno per tutto il mese fino al 3 quindi quindi probabilmente un sacco di problematiche ci saranno un sacco di chiarimenti un sacco di incontri positivi un sacco di conoscenze positive notizie positive risposte positive e quindi diverse problematiche che si sono create anche di recente con la luna piena in scorpione opposta a durano e nodo nord che vi è andata a toccare l'asse della materia che è in corso adesso e che abbiamo avevamo detto nel video di allora essere una luna piena riequilibratrice di karma che anche doveva avere ha ricevuto probabilmente chi doveva dare in qualche modo ha dato quindi adesso buone notizie se si sono creati dei misunderstanding insomma questa la luna piena in sagittale una grande amica della bilancia quindi riuscirete in questo mese a chiarire molte cose anche grazie ad un team di persone di amici di persone positive di colleghi di punti di riferimento che si rivelano capaci addirittura nel vostro entourage può entrare qualche figura molto positiva molto promettente che vi aiuta anche nella risoluzione delle problematiche che la bilancia a causa di giove opposto ha avuto opposto marte in cancro più toni in ariete ha avuto le sue sfide entra quindi nel vostro entourage una o più persone che hanno una portata benefica possono essere ragazzi dei colleghi degli aiutanti persone del team degli amici dei consulenti insomma intorno a voi finalmente arrivano tutte dinamiche persone situazioni in gamba competenti che riescano ad aiutarvi che riescano proprio a risolvere le cose l'unico aspetto diciamo su cui portare l'attenzione è al momento la congiunzione di marte e leone sulla luna nera il leone ne abbiamo già parlato la prossima scorsa settimana di non fare in gelosia del partner di non magari ecco di non farò troppo la prima donna quando si è in mezzo agli altri di non eccedere con il comando se si ha questa tendenza quindi di non essere troppo troppo arroganti ma anche di ve lo aggiungo questa settimana visto che c'è questa luna che adesso ve lo fa vedere visto che abbiamo parlato di entourage visto che abbiamo parlato di amicizie positive intorno a voi che questa venere vi potrà aiutare a migliorare probabilmente intorno a voi potrebbe non è detto manifestarsi rivelarsi anche qualcuno tanto quanto voi potreste avere degli eccessi di dominio nei confronti degli altri intorno a voi qualcuno no specularmente potrebbe avere dei comportamenti designati dalle ottave basse del leone quindi dominio comando ovviamente a sproposito togliervi lo spazio quando il vostro competizione ragazzi anche invidia perché le ottave basse del leone prevedono questa cosa in quanto chi vive il leone no l'energia del leone ad ottave basse se vuole brillare a tutti i costi vuole la scena a tutti i costi e se qualcuno involontariamente brilla al posto suo o comunque si permette di brillare un po' poi dipende ovviamente no da livello di evoluzione delle persone se qualcuno guai dovesse brillare un po potrebbero potrebbero avere dei sentimenti ecco così di di rivalza e di invidia quindi volendo potrebbero anche scattare delle competizioni ma questa bellissima luna piena in sagittario farà sì che voi vi liberate di queste cose non ne riceviate un danno sostituiate la persona sia un collaboratore insomma emerge questa cosa l'energia si muove così potrebbe emergere questa cosa e potrebbe risolversi allo stesso modo questa cosa con una scioltezza con una leggerezza con brio che anche il sole in gemelli mercurio in gemelli dalla prossima settimana agevolano perché fuoco e aria che è la grande dominante del cielo di questa settimana e anche della prossima sono non solo vostri grandi amici ma collaborano meravigliosamente tra di loro quindi va bene ci sono anche dei momenti molto belli col per l'amore la luna piena in sagittario va a regalare tempo all'amore ai figli perché altrimenti i pianeti leone che vi vedono molto proiettati all'esterno potrebbero togliere queste energie invece ci sono c'è questa bellissima luna in sagittario da punto di talete riesce a riequilibrare un po l'energia chi cerca l'amore può fare degli incontri in questo mese molto interessanti avete una venere così favorevole congiunta a marte che insomma la passione non dovrebbe veramente difettare nella vostra vita finalmente e chi un partner già ce l'ha ovviamente può vivere dei momenti di relax dei viaggi di svago quindi è un momento è un momento di ristoro ok anche se dovesse esserci il collega l'amico insomma che in qualche modo possa avere qualcosa di estemporaneo ragazzi c'è proprio questo è un è davvero un bel questa settimana è davvero un bel momento di ristoro quindi riposatevi godetevela è una settimana fortunata dalla prossima ci saranno anche ripeto altri movimenti la cosa più importante che giovesi sia tolta dal segno della riete risolverete anche le questioni ereditarie sicuramente la materia i soldi i soldi fino a luglio la faranno no saranno ancora dominanti ma poi si risolve anche quello quindi godetevi questa settimana divertitevi anche per noi un grande bacio e fatemi sapere nei commenti come vivrete questa bella luna piena in sagittario cari amici dello scorpione cari amici con l'ascendente scorpione benvenuti alla settimana dal 4 all 11 giugno benvenuti alla settimana della luna piena in sagittario trigono a marte e all'ingresso di venere il leone allora vediamo di ricapitolare per voi questa settimana nello specifico il giorno 4 si chiude un corridoio energetico iniziato con la luna piena di del 5 maggio che era la luna piena scorpione quindi la luna piena più intensa per quanto vivi riguarda più intensa dell'anno è una luna che sicuramente nel giro di questi 30 giorni ha dato luogo a qualcosa magari a consapevolezze c'è chi sembra che ci sia un energia che vi spinga ad andare lontano a superarvi a migliorarvi o raggiungere veramente cose lontane quindi oltre il sapere oltre degli sblocchi psicologici in questo mese sembra anche che si siano prospettate per chi lo desiderava o anche in maniera inaspettata mete lontane nuovi inizi da qualche parte sia a livello culturale ripeto che lavorativo e anche sentimentale non dobbiamo mai dimenticare che questo per voi è un anno a livello di sentimenti interessantissimo a patto che siate prudenti cioè a patto che cerchiate di navigare in liti tranquilli in situazioni trasparenti che non che non amiate il rischio che non lanciate provocazioni ok che non corriate dei rischi questo è un anno in cui stare come gioventoro vuole stare in un orticello sicuro e se non l'avete ancora fatto c'è il video dedicato a gioventoro che dal 2023 al 2024 che forse per gli scorpioni giusto per la prudenza e no è bene di ascoltare ogni tanto quindi si è conclusa questa fase una fase che vi ha messo in discussione vi ha fatti crescere vi ha spinto a fare un'esperienza nuova vi ha fatto crescere avete raggiunto è come se anche se solo nel giro di un mese avesse attraversato un fiume impetuoso da una parte all'altra forse è come se foste andati oltre le vostre paure fatto sta che questa luna di questa settimana in sagittario inaugura un altro corridoio temporale che questa volta mi parla di indipendenza quindi dopo esservi messi in discussione dopo aver affrontato qualche paura dopo un mese comunque intenso nel quale avete forse dovuto fare dei passi indietro non avete potuto raggiungere qualcuno forse avete dovuto lasciare andare qualcuno ricordate che era una luna che che parlava molto di bilanciamenti no di bilanciamenti energetici adesso c'è dopo l'aver lasciato andare dopo l'aver fatto questa esperienza c'è la la questione di reggersi sulle proprie gambe di conquistare sia psicologicamente che materialmente una nuova forma di indipendenza forse non c'è più qualcuno a cui vi appoggiavate parliamo di partner di amici di lavoro persone del vostro entourage forse questa è questa la sfida ma comunque qualunque questa sia adesso dal 4 giugno fino al 3 luglio la conquista è l'indipendenza indipendenza psicologica indipendenza emotiva indipendenza economica questa luna è ben sorretta da marte il leone quindi alla fine di questo transito alla fine di questo mese alla fine di questo corridoio energetico avrete conquistato a 360 gradi anche proprio e anche nello specifico nella carriera qualora quello che si fosse mosso e messo in ballo fosse specifico della carriera avrete registrato sicuramente un avanzamento a livello di esempi potreste ricevere un aumento di stipendio essere promossi avere una mansione di responsabilità arrivano tra l'altro anche degli aiuti oltre a sfide vinte dal punto di vista ecco proprio del carisma e del potere personale arrivano anche degli aiuti e arriva l'amore per chi lo cerca o un momento di grande enfasi e passione sentimentale per chi l'amore ce lo ha già e c'è anche un momento di di guarigione fisica o estetica legata a qualcosa che vi riguarda infatti il giorno dopo la luna venere esce dal cancro sicuramente il segno del cancro vi ha fatto sentire protetti dal centro di dell'affetto di vi ha fatto sentire l'affetto di molte persone ma adesso il momento di dimostrare quanto siete in gamba quanto siete forti venere il 5 esce dal cancro entra nel segno del leone si congiungerà velocemente a marte e lì ci sarà veramente la conquista di una leadership di di un ruolo di qualcuno che vi appoggia una fortuna lavorativa sarà un momento molto molto affascinante molto molto bello per voi e ripeto sarete finalmente consapevoli di quanto siete forti del carisma che avete delle cose che potete raggiungere quindi se state aspettando delle promozioni delle risposte lavorative degli avanzamenti di carriera ma anche se state aspettando di conquistare qualcuno questo questa può essere la settimana anzi in realtà questo può essere il mese delle mete raggiunte questo sia chiaro quindi è un oroscopo assolutamente positivo c'è da integrare quell'energia di giove cioè si prospettano miglioramenti cambiamenti potere economico più soldi a patto che no quindi quel gioventoro definisce tutta una serie di di paletti di cose di situazioni in maniera limpida sicuramente abbondante quello che la percezione che avrete magari ecco che non potrete fare i giocolieri no che non avete quella libertà di gioco di gestire di anche di manipolare di penetrare le situazioni come come piace a voi però è anche un'esperienza da fare quella di così navigare in acque tranquille e riuscire comunque a soddisfare i propri bisogni quindi questo è un momento molto molto interessante per quanto riguarda saturno in pesci molti scorpione ascendente scorpione stanno vivendo o dei momenti importanti per quanto riguarda i figli quindi chi è grande potrebbe diventare nonno vedere i figli che vanno a convivere che incontrano l'amore della propria vita e contemporaneamente perché una cosa non esclude l'altra o figli che si laureano ragazzi figli che vanno a lavorare fuori figli che vengono assunti no figli che prendono la prima cotta cioè è come se nell'ambito dei figli ci fosse uno switch come se vi rendeste conto che stanno diventando grandi no ci sono degli avvenimenti come dire pietre miliari è un po epiche mettiamola così insomma importante ci sono degli avvenimenti importanti e una cosa non non esclude l'altra saturno in pesci mette ordine anche per voi nell'amore nelle questioni creative e anche nel modo di divertirvi quindi di vivere il rischio di vivere i piaceri ecco questo questa è una cosa che saturno vi chiede di mettere regole ordine e sì di mettere regole ordine nel nell'ambito del divertimento della passione della mo del modo di vivere l'amore sentimenti e anche delle relazioni quindi arrivano cose fate vedere quanto siete forti però c'è necessità di regole rettitudine e prudenza spero che questa lettura vi abbia chiarito le idee sulle sulle cose da fare su sugli avvenimenti che accadranno si parlerà molto di soldi e di responsabilità questa settimana fatemi sapere nei commenti chiari a dire come vanno le cose io vi auguro che possiate prendere il meglio da questa bella luna piena in sagittario trigono a marte un grande bacio e vi aspetto nei commenti cari amici del sagittario cari amici con l'ascendente sagittario benvenuti alla settimana anzi al corridoio energetico quindi al mese più ambizioso di tutto il 2023 molto probabilmente allora scherzi a parte il giorno 4 ci sarà la luna piena nel vostro segno quindi ribalta arrivate alla ribalta siete concentrati su voi stessi l'energia si concentra su di voi e le cose insomma migliorano vanno bene switch hanno insomma andate a prendervi qualcosa che vi interessa è molto ambiziosa perché perché luna piena in sagittario voi sapete che lo sapete bene no meglio di noi che il sagittario è sempre proteso verso la conquista di qualcosa no quindi per il superamento di quello che ha in vista di quello che deve ottenere perché la sua sfida la sua vita è un'eterna sfida un'eterna conquista il suo fuoco arde quando ci sono nuove sfide e nuovi liti da raggiungere ok quindi proprio è un esuberante che è venuto a raggiungere obiettivi a superare gare spesso con se stesso allora quindi una luna piena inaugura un corridoio energetico che lo mette che dura un mese che inizia il 4 giugno finisce il 3 luglio in cui questo sagittario avrà un espansione inizia quindi una fase di protagonismo di sano protagonismo a meno che non ci siano ottave bassissime quindi insomma che non ci si si esageri un po si è concentrati su se stessi si ha contezza della propria energia delle proprie intenzioni e probabilmente in questo stato di grazia perché una luna piena che è congiunta che è trigono ragazzi cioè che in ottimo aspetto con marte e leone quindi è sostenuta dalla forza di marte e leone avrete sicuramente voglia di conquistare qualcosa di espandervi di raggiungere degli obiettivi ed ecco che mi prefiggete nuove sfide quindi potete fare un nuovo corso di aggiornamento fare un viaggio magari da soli o comunque con un gruppo nuovo raggiungere qualcuno che è lontano imparare nuove conoscenze fare un corso di crescita personale cioè proprio annettere al vostro sapere nuove nuove cose ok ovviamente se siete degli studenti questo è un momento ottimo per per diplomarvi per sostenere gli esami per raggiungere delle vette e delle conquiste decidere anche cosa fare dopo quindi questo è veramente un ottimo momento un ottimo momento anche per scalare graduatorie cioè è veramente un momento di di grande di grandi piaceri di grandi conquiste anche di grandi invenzioni no cioè di idee di progetti di qualcosa che poi ovviamente prenderà probabilmente in là a partire magari dal prossimo mese dal prossimo mese dal prossimo corridoio energetico questo momento comunque molto buono anche per l'amore è un momento di grazia un momento soddisfacente un momento di energia è un momento di anche di svolte bisogna integrare un paio di energie qui c'è quello che rimane ci sono le radici e ci sono i cambiamenti da apportare arrivano novità quello senz'altro bisogna che andranno integrate che bisognerà fare uno sforzo di flessibilità perché andranno integrate nella vostra quotidianità che è forse nata però spesso è anche molto ben organizzata in quel turbinio di di avvenimenti che che si prospettano quindi è un periodo di cambiamento noi l'abbiamo già detto sia nel video di saturno in pesci che è disponibile sicuramente per gli abbonati insomma poi vedremo quanti altri riferimenti fare su queste cose quindi l'abbiamo già visto con anche durante gli oroscopi della settimana con saturno in pesci c'è la fine di qualcosa alla fine di una fase di vita e l'inizio è l'inizio di qualcosa di un'altra fase molto molto lunga e altrettanto importante si chiude per voi un ciclo iniziato nel 94 96 se ne apre un altro che ha una prospettiva di un trentennio e questa settimana ovviamente saturno in pesci resterà tre anni sicuramente ci saranno delle cose da abbandonare delle cose da interiorizzare ma di questo anno di questo anno con giove in toro perché gli scaglioni degli anni di saturno sono tre giove in toro giove in pesci e giove in cancro ciascuno di questi giove vi farà ottenere delle conquiste in un ambito diverso proprio legato alle simbologie che appunto giove designa cambiando segno qui c'è un quotidiano da reinventare ci sono delle radici da mettere ci sono dei cambiamenti probabilmente ho già l'ho detto c'è un trasferimento in molti me l'avete chiesto ci sono trasferimenti ci sono traslochi c'è anche chi sta acquistando casa ragazzi quello sicuramente probabilmente ecco tocchiamo la questione dei traslochi degli acquisti immobiliari che molti sagittari ascendente sagittaro sagittario mi hanno scritto nei commenti allora probabilmente le cose si concretizzeranno nel senso che ci sarà proprio la forse la definizione a partire da luglio ok proprio dai primissimi giorni di luglio perché ci sarà una luna nuova in una luna piena scusatemi in capricorno rigono a giove subito poi raggiunta da marte in vergine e quindi lì ci sarà una prospettiva una concretizzazione nel frattempo questo va va detto ma sicuramente detto siccome siete già nella stagione del sole in gemelle siccome dalla prossima settimana anche mercurio si entrerà nel segno dei gemelli quindi entrando nel vostro lato ombra bisogna tecnicamente attendere siccome pianeti in gemelli formano anche un ottimo aspetto con marte e leone e venere e leone bisognerebbe attendere magari per definire la prossima settimana perché ovviamente se avete già deciso e fatto i preliminari andate tranquilli non stiamo seminando il panico ma dalla prossima settimana anche con mercurio in gemelli qualcosa di cui non siete tanto convinti probabilmente potreste ulteriormente lasciarla andare e guardare oltre ok quindi invece se siete convinti assolutamente delle scelte che state facendo sappiate che dalla prossima settimana con mercurio in gemelli ci sarà la definizione di rapporti e no ma proprio stiamo parlando di ciliegina sulla torta nel senso che il grosso già fatto di rapporti società e anche compravendite e questioni legali no quindi una sorta di bibi ovviamente visto che la vostra luna in sagittario farà venire a galla quello che comunque avete dentro le vostre intenzioni separa vi mette luce e vi separa dal vostro lato ombra perché una luna piena in sagittario opposta al sole in gemelli in mezzo tutto il resto questi pianeti che stanno mi stanno facendo svoltare la vita vi stanno facendo diventare grandi quindi se siete già decisi di quello che delle decisioni da già prese quindi le volete formalizzare questa settimana è già ottima ragazzi venere leone marte leone trigona la luna dalla prossima potrete avere se avete qualche indecisione o si incrina qualcosa ben venga perché potrebbe servire a fare ulteriori chiarezze l'unica come dire l'unico accorgimento venere e marte saranno congiunte a lilith in leone quindi cercate di dominare magari di non fare la voce grossa di non litigare è un lilith in leone congiunta a marte a venere fa venire fuori una grande vanità un grande ego ovviamente quello che abbiamo sommerso non non ci porta niente dall'esterno lo palesa soltanto lo manifesta quindi monitorate magari gli eccessi in quest'ottica perché comunque avendo il sole nella tomba avendo essendo nella stagione dei gemelli si potrebbe incrinare magari qualche qualche rapporto e qualche equilibrio quindi io vi aspetto nei commenti raccontatevi di questa bellissima luna piena in sagittario vi mando un grande bacio e buona settimana a tutti cari amici del capricorno e cari amici con l'ascendente capricorno benvenuti alla settimana dal 4 all'11 giugno una settimana in cui ci sarà una luna piena in sagittario allora a me già viene da sorridere perché perché più volte abbiamo parlato del fatto che il capricorno ha una parte selvaggia diciamo no non è parte rare eccezioni e rari temi natali insomma sistemati in un certo modo che quindi propendano per l'introversione non è sempre un animale sociale anzi quando si rompe le scatole medita di di fuggire per mari per monti sul cucuzzolo di una montagna proprio in maniera tipica proprio per definire che quella poi della definizione del capricorno stesso dell'animale il capricorno quando quando si rompe le scatole quando si sente che le cose iniziano ad andargli strette a tira fuori quella vena solitaria individualista e soprattutto esule ma quindi sogna proprio di di fuggire in realtà quindi dietro quell'affidabilità dietro quella compostezza quella staticità anche no a volte sembrano inamovibili sembrano solidi sembrate inamovibili solidi come il segno di terra che vi caratterizza però in realtà dietro le quinte proprio nel backstage sognate evasioni insomma le responsabilità quando le pressioni sono troppe non vi piacciono e questa settimana quindi questo per dire che voi avete un inconscio vedete che ogni segno zodiacale ha una parte inconscia segreta ma che tanto poi viene fuori come tutte le cose inconsce quando cadono le maschere avete un inconscio simile diciamo caratterizzato da dal segno del sagittario no quindi metà persona metà cavallo e quindi proprio la voglia di scalpitare di galoppare di darvela quando le cose si fanno stressanti e pallose il capricorno ce l'ha è un esule è un latitante potenzialmente è un latitante e adesso c'è la luna piena in sagittario quindi si inaugura un corridoio energetico e che finirà il 3 luglio quando poi ragazzi ci sarà la luna piena in capricorno e quindi vi vedrà tornare all'ovile insomma si inaugura quella fase in cui se siete dei capricorno avrete voglia di evadere di darvela tecnicamente è probabilmente qualche scappatue la troverete perché insomma i capricorno gli ascendenti capricorno sono dei dritti e quindi hanno sempre un asso nella manica hanno sempre una una seconda opportunità è difficile che vengano colti impreparati dalla vita e quindi sappiate che se invece avete a che fare con un capricorno o con un ascendente capricorno insomma se li vedete poco se vadono insomma questo è il loro momento di ristoro perché si vede che è riesplosa quella quella voglia di stare per conto proprio no quindi se siete dei capricorno iniziate a risentire questa insofferenza per le cose sappiate che nonostante le cose insomma vadano benino iniziano ad andare bene c'è giove in toro già da insomma alcune settimane saturno da qualche mese insomma la voglia di evadere ci sarà per tutte le persone che mi hanno scritto sono capricorno ascendente capricorno luna capricorno ancora non si vede la luce insomma sto giove doveva fare qualcosa di più come ho detto per altri segni quelli per i quali le aspettative di questi transiti erano molto alte capita che quando ci sono dei transiti sfidanti in precedenza giove in ariete un anno quadrato plutone in capricorno gli ultimi due mesi avete avuto marte in cancro poi c'è stato quel transito lungo di marte in gemelli che è finito a marzo che vi ha affaticati molto sia varie tensioni salute e questioni lavorative complicate insomma quando si sommano diversi transiti pesanti capita che come quando siamo con la macchina usciamo fuori strada si resti impantanati e non si riesca a rimettersi subito in carreggiata quindi quando è arrivato giove ora che è uscito marte io volevo volevo tranquillizzare e ricordare capricorno che voi oltre a giove in ariete avete avuto anche marte opposto che insomma non è sempre una passeggiata di salute quindi dal 21 maggio avete marte in leone e adesso si somma anche venere state un po' attenti all'arroganza state attenti alle a non ruggire troppo perché marte venere saranno congiunti a lilith sono già marte già congiunta alla lilith in leone quindi insomma già avete un caratterino importante cercate di non di non peccare diego cercate di controllare gli eccessi ma che cosa accade ora che marte si è tolto giove si è messo a favore è come se fosse arrivato il momento in cui dopo un deragliamento arrivano i soccorsi no e quindi iniziano a trenarvi fuori da questo pantano per rimettervi sull'asfalto non sulla strada maestra principale e quello il momento più difficoltoso no cioè il recupero perché perché dovete mettercela tutta anche voi fare le manovre spingere tutta la retromarcia insomma siete nella fase in cui ci si rimette in carreggiata sicuramente questo ve lo anticipo da luglio da luglio vi vi sarete rimesso in carreggiata da luglio davvero troverete delle delle condizioni diverse però adesso bisogna spingere tanto per fare diciamo uno sforzo finale per recuperare quindi ovvio che con questa luna piena in sagittario sotto sforzo già stanchi dalle fatiche di qualche anno insomma non proprio tranquillissimo è chiaro che vi verrà da evadere ok ma tanto tornerete pure perché comunque le questioni legate all'amore iniziano ad andare bene anzi potrebbe accadere che magari questo giove congiunto a durano cambia anche porti anche delle novità e che quindi l'evasione sia da qualche situazione che adesso vista stretta insomma non è escluso che per i capricorno e l'ascendente capricorno non ci sia uno switch sentimentale quindi l'evasione c'è per come dire per cambiare aria schiarirsi le idee e poi ritornare ci sono anche c'è anche la questione economica in questa settimana particolare c'è c'è una congiunzione venere il 5 entra nel segno del leone e si congiunge a marte e si congiungono alla liriti leone la voglia di lusso potrebbe aumentare la voglia di lusso la vola di attingere ai soldi che avete messo da parte no la voglia di toccare dei beni ereditati c'è un'insana sana e insana potrebbe essere eccessiva visto che coinvolgere al litio leone voglia di investire spendere espandere di osare di 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 regalarvi delle cose molto lussuose occhio alle ocche alle spese ecco ricordatevi che quando c'è lilith in leone si tende ad esagerare ok magari riman se ce la fate rimandate alla prossima settimana le spese perché ci saranno diciamo dei transiti migliori soprattutto alla fine di questa settimana almeno plutone esce dal segno dell'acquario e quindi smette di farvi cedere di farvi vivere un po di debolezze quindi cari capricorno se negli ultimi due mesi avete percepito qualche debolezza verso i piaceri verso verso i vizi verso qualche dipendenza un po più forte adesso fatemi sapere nei commenti se dal 10 11 giugno vi sentirete un po più responsabile no sentirete un po il ritorno alla alla forza questo potreste potreste recuperare un ritorno ad un certo autocontrollo e inoltre per tutti capricorno che a causa di giovane ariete di marte in cancro hanno avuto delle tensioni lavorative lavorative anche in famiglia questa luna in sagittario riporterà pace e pace ottimismo armonia e calore umano soprattutto che quello di cui c'è tanto bisogno quindi c'è un c'è un recupero c'è assolutamente un recupero io vi raccomando di essere attenti agli eccessi alle trasgressioni contenete l'ego contenete no l'orgoglio insomma la voglia di strafare e andrà tutto meravigliosamente bene io vi aspetto nei commenti vi auguro una fantastica settimana e vi mando un bacio cari amici dell'acquario e cari amici con l'ascendente acquario benvenuti alla settimana dal 4 all 11 giugno allora c'è una bellissima luna piena in sagittario che vi stempererà tutte le influenze e le tensioni create da questo stellium il leone che si sta creando nel cielo c'è già marte cari amici dell'acquario già dal 20 21 maggio avete marte in opposizione quindi i rapporti interpersonali si stanno complicando con qualcuno con più di una persona siete rientrati nelle dinamiche dell'ego forse con il partner forse con i colleghi in generale comunque questa è una cosa che accade a 360 gradi ogni due anni quando abbiamo marte opposto quindi quando viviamo l'opposizione di marte ci sentiamo o più trasgressivi accade anche questo e tra l'altro una cosa non esclude l'altra quindi viene voglia di uscire fuori dal come dire dal proprio orticello dal proprio recinto viene voglia di trasgredire di guardarsi intorno di scoprire cose nuove la personalità la seduzione diventano difficili da da controllare e accade anche una cosa non è detto che escluda l'altra che ci sentiamo anche stressati vessati provocati attaccati da qualcuno a volte sorgono dal nulla cioè vengono fuori questi haters che ovviamente c'erano già e si manifestano con questo transito proprio perché l'opposizione di marte va a portare guerra energia di guerra un motore di di fuoco di energia molto forte proprio nel lato ombra nel segno opposto al vostro quindi ho proprio le relazioni impazziscono insomma ovviamente a seconda di ciascuno di noi a seconda della pace o delle tensioni che si seminano no e quindi ogni volta ogni ogni due anni passa marte e presenta una sorta di conto insomma a volte si ripresentano delle sfide che magari ben conoscete che appartengono all'anno scorso a due anni fa o a un tempo assolutamente precedente che si ripresentano per essere per tentare di essere risolte ovvio che tutto quello che si ripresenta e perché è un ritorno un ritorno per essere processato meglio un'altra cosa che può accadere oltre oltre alla voglia di trasgressione oltre alle provocazioni inoltre quindi a qualcuno che poi attacca o vi tampina c'è anche l'effetto diciamo strappo no l'effetto separazione ed è l'effetto che marte opposto fa di vedervi allontanati da qualcuno oppure proprio di di assistere magari alla fine di un contratto di lavoro di di una relazione di di un'amicizia ovviamente nessuna amicizia nessun contratto di lavoro e nessun rapporto nessuna relazione si risolvono con il semplice transito di marte opposto chiaro che ci sono tutta una serie di logori c'è stato saturno in acquario che congela spezza i rami secchi nel momento in cui arriva marte in opposizione qualora stesse vivendo appunto la perdita la separazione l'allontanamento da qualcosa da qualcuno arriva marte e suggella conclude la situazione quindi tutto è una conseguenza di tutto il consiglio che vi danno le stelle è quello di monitorare quelle che sono diciamo le vostre responsabilità nel senso che per sfruttare un transito a livello evolutivo bisogna comprendere qual è stata la nostra compartecipazione alla situazione ok questi sono dei transiti nei quali fare queste riflessioni torna sempre utile perché aiuta a diciamo sciogliere il nodo a comprendere la natura della dinamica e in qualche modo per la propria parte a tirarsene fuori e siccome c'è questa benedetta lilith in leone che in realtà abbiamo dal 3 agosto 2022 e che avremo fino al 19 febbraio 2024 ma questo è il momento più intenso di questa lilith in leone per questo ne stiamo parlando adesso perché solo adesso è stata raggiunta da marte quindi il dio della guerra della forza del lagone della passione prende lilith in leone e la fa ruggire più forte che mai che cosa significa che lilith in leone è una luna il leone diciamo ad ottave basse mettetela così quindi che cosa significa che dal vostro lato ombra può emergere leggo la voglia di dominare gli altri dire agli altri quello che devono fare pensare di avere il dominio su qualcosa no e magari queste cose possono essere sconfessate io vi ricordo che fino a questa settimana avete anche plutone in acquario che quindi è come se plutone mostra le nostre debolezze ok e le debolezze dell'ego della vanità della seduzione tutte le cose plutone torna in congiunzione su un sole su un ascendente su una luna proprio per farci vedere quanto magari dobbiamo siamo ancora deboli rispetto a certe cose e nel momento in cui si chi si crea questa polarità marte venere lilith è chiaro che può esserci un ritorno come dire una si presentano le conseguenze di azioni di intenzioni e di azioni legate a eccessi di vanità a trasgressioni a un orgoglio troppo forte alla voglia di dominare a un protagonismo troppo accentuato quindi qual è il segreto monitorate gli eccessi monitorate gli eccessi se ce la fate io manco ve lo dico perché so che l'acquario non è spesso il re della disciplina però se ce la fate quando soprattutto le situazioni magari diventano molto caotiche scrivete tenere un diario aiuta proprio la psiche a smettere di mentirsi a mettere nero su bianco e a dare un nome alle etichette così in questa narrazione il più possibile onesta che attraverso la scrittura avviene potreste magari finalmente comprendere qual è il contributo che voi avete dato qualora le situazioni si dovessero complicare comunque questa era stata la lettura energetica a livello pratico potremmo vedere allontanamenti ci sentiamo provocati ci sentiamo non capiti ci sentiamo anche insoddisfatti no perché marte opposto appunto come dicevo all'inizio spinge a trasgredire ad andare a colmare una fame di ego però no di vanità che era recondita quindi moderare gli eccessi cercare di controllarsi sarà uno senz'altro un'ottima palestra perché perché i rapporti col partner altrimenti i rapporti di lavoro insomma i rapporti con gli altri potrebbero complicarsi ed entrare in quelle dinamiche di comando sottomissione ego chi vince insomma chi chi si sottrae che più furbo no un po al gioco anche no di che più furbo di chi riesce a dominare l'altro che alla fine in un discorso evolutivo lasciano il tempo che trovano questa luna come dicevamo è una luna in sagittario molto buona perché anche se dovessero esserci delle tensioni con il partner ci sono gli amici c'è una grandissima import anche se dovesse sentirvi soli anche se dovesse finire una relazione anche se dovesse finire un'amicizia c'è questa bellissima luna in sagittario che vi porta nuova energia nuove situazioni un team state creando e si creerà in questo corridoio energetico dal 4 giugno al 3 luglio un team di persone di nuove conoscenze di amicizie di collaborazioni molto molto interessante questo sarà un periodo di grande affiatamento di ripristino di rapporti recuperati che andate a riprendere dal passato nuove energie si si mettono intorno a voi quindi nonostante questo nonostante alcune tensioni c'è sicuramente riuscite a far quadrare tutto soprattutto se vi monitorerete dove si fa dove si creerà un vuoto si riempirà subito con buona energia quindi questo è un corridoio energetico di un mese di grande affiatamento di nuove di nuove presenze intorno a voi e probabilmente chi si allontana con questo marte e leone e questa venere e leone era proprio destinato ad altri lidi so che ve ne accorgerete soprattutto se viene immediatamente rimpiazzato da nuove e benefiche frequenze quindi è un cielo che ha un suo motivo di essere così e poi una bellissima luna piena davvero che vi porterà lontano a veramente può recuperare qualcosa che si era perso nel tempo o a raggiungere progetti e persone che sono nettamente migliori rispetto a prima quindi c'è un'evoluzione e c'è un miglioramento ovviamente le conoscenze e le amicizie che arrivano adesso possono avere anche degli sviluppi interessantissimi a livello sentimentale oltre che collaborazioni e progetti quindi fatemi sapere nei commenti che cosa accadrà di bello in questo periodo io vi mando un grandissimo bacio godetevi questa bella luna e buona settimana a tutti cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci benvenuti all'oroscopo dal 4 all 11 giugno benvenuti alla luna piena in sagittario trigona marte che per voi segnerà un avanzamento di carriera un raggiungimento di uno di un obiettivo ambizioso e quindi di un momento assolutamente celebrativo fosse stata un'altra luna in sagittario una piena in sagittario in altri tempi trigono marte vi avrei detto sicuramente che c'erano degli ottimi agganci delle ottime opportunità lavorative e ovviamente poi il 5 anche venere entra nel leone quindi un momento un mese di giugno proprio che si inaugura in questa settimana di grande fascino grandi fortune di grandi soddisfazioni ma questa volta c'è anche saturno saturno sul sole o sull'ascendente quindi quello che arriva se arriva è tanta roba nel senso che saturno consacra quando nei tre anni in cui dei due anni e sette mesi circa in cui saturno percorre un ascendente percorre il segno solare la luna ci sono degli avvenimenti importanti destini c'è ragazzi è il signore del karma è il signore del destino che toglie quello che inutile porta quello che è importante per quella persona per quell'anima se abbiamo fatto se ci siamo impegnati ci consacra se abbiamo sbagliato toglie quello che abbiamo fatto finora perché tanto era sbagliato e quindi offre una tabula rasa per dire ricomincia da qui tanto con l'energia di saturno le cose per caso neanche attecchiscono ok cioè non è proprio un periodo in cui voi sentirete un'energia densa severa rigorosa per cui le cose un po estemporanea che non hanno motivo di esistere nella vostra vita se anche voi doveste intercettarle tipo chimene non si svilupperebbero proprio non si quaglia le cose inutili non si quagliano per quello quando mi scrivete sto aspettando la chiamata mi avevano proposto non perdete tre anni fermi ad aspettare qualcuno certo adesso saturno è da quattro mesi nel vostro segno ci sta ci sta che magari no uno dovesse aspettare l'ingresso di gioventoro e farlo decantare un attimo ci sta però aspettare tantissimo tempo senza guardarsi intorno sia sentimentalmente sia lavorativamente parlando è qualcosa di incauto ok perché perché si possono perdere delle occasioni poi perché un saturno in pesci ha proprio il compito di togliere le illusioni dalla mente e quindi siate consapevoli no quindi quello che arriva che sarei consapevoli che si rischia la perdita di tempo insomma quello che è giusto con saturno bene o male soprattutto quando ci sono i trigoni di gis e stili di giove ottimi aspetti insomma di marte venere e lune succedono quindi sia chiaro questo perché leggo di tante persone bloccate leggo nei commenti di persone che aspettano dei partner per sei anni dieci anni quattro anni ragazzi pure due anni sono troppi ok c'è qualcosa c'è qualcosa di poco chiaro e soprattutto insomma ci sarebbe da svegliarsi un attimo detto questo questa luna in sagittario invece con saturno se vi porta qualcosa qualcosa di molto interessante io vi ricordo che avete anche giove a favore ed è un giove congiunto ad urano quindi avevamo già detto sia nel video di urano in gioventoro sia diciamo nei su per saturno avevamo già detto nelle scorse settimane che per voi c'era un cambiamento un cambiamento di destinazione un cambiamento di ufficio un cambiamento di studi un cambiamento un trasferimento uno spostamento un viaggio importante o degli incontri che cambiavano le cose le prospettive durante un viaggio a maggior ragione questa luna piena in sagittario siccome è in qua è potente bellissima e trigona marti a venere è in quadratura col vostro sole porta sicuramente un'energia di novità che dovrete integrare cosa desiderate in questo momento potrebbe accadere però potrebbe portarvi anche lontano rispetto a quello al posto o alla situazione o alla relazione in cui siete ora diciamo che è questo il concetto no che c'è area di cambiamento detto questo se invece avete seminato in un settore che vi sta dando soddisfazioni questo per esempio questo corridoio energetico che si inaugura il 4 giugno e finisce il 3 luglio questo può essere un momento di della famosa consagrazione che dicevamo sicuramente è un momento molto intenso a livello lavorativo proprio nel quotidiano state cambiando molte cose se ancora non vedete niente vedrete che dalla luna piena di sagittario del 4 giugno dovrebbe innescarsi un motore di situazioni che in capo a un mese porteranno assolutamente a svolte e a nuovi progetti la prossima luna questo ve lo spoiler sarà una luna in capricorno luna piena in capricorno del 3 luglio sarà trigona giove se stile a saturno porterà delle interessantissime novità e questo ve lo annuncio perché insomma avete saturno in pesce quindi è un momento epico ci sarà marte in vergine opposto a saturno quindi il cambiamento che inizia adesso e che ovviamente avrà un'evoluzione un'elaborazione parliamo di sogni desideri quindi lavoro relazioni studio a seconda dell'età che avete il cambiamento che inizia adesso poi porterà proprio allo sgancio di qualcosa che finora è stato nella vostra vita e all'inizio di qualcosa di nuovo perché marte in vergine opposta a saturno diciamo che vi consentirà molto probabilmente di prendere coscienza di quelle illusioni che stavamo di cui stavamo parlando e quindi di tornare con i piedi per terra ed iniziare qualcosa di concreto per farla meno complicata e meno sibillina perché a volte ce n'è bisogno per tutti come saturno in pesci svela le illusioni no quelle trappole di seduzione di di sogno di di promesse da parte sia di per quanto riguarda il lavoro per quanto riguarda le relazioni proprio nei rapporti umani no di persone che si dipingono per quello che non sono che vi prospettano cose che non non sono né in cielo né in terra allora sappiate che questa luna in sagittario potrebbe innescare tutta una serie di avvenimenti per cui arriverete alla comprensione no inizierete a svegliarvi o a vedere le cose in una maniera diversa e a volere altro quindi un risveglio un progressivo risveglio poi quando ci sarà la luna piena in capricorno molto molto tenagio e molto lungimirante e marte quindi vi darà si inaugurerà un altro corridoio dove avrete una forza e una determinazione nuove ci sarà poi marte in vergine e lì riuscirete a sganciare questa immensa zavorra fatta da un'illusione che chissà da quanto circola e ci sarà un risveglio complessivo assolutamente positivo ok quindi sarà buona anche quella luna in capricorno questo ve lo anticipo perché farà da punto di talete tra marte in vergine e saturno in pesci quindi tempi di grandi cambiamento per i miei amici pesci pesci e ascendente pesci anche chi ha la luna in pesci con una luna piena in sagittario sarà chiamato a svegliarsi dal sogno no sarà richiamato dalle sfere oniriche e dovrà fare dei cambiamenti galoppare verso qualcosa di molto bello ragazzi qui c'è amore c'è passione l'unica cosa l'unica cosa che raccomando anche dalla settimana scorsa siccome adesso anche venere entra il leone quindi il ruggito leonino si veste anche di vanità bellezza amore per il lusso protagonismo plate alità sentimenti plateali attenzione attenzione perché sono congiunti a lilith e quindi si potrebbe ruggire troppo voler dominare troppo insomma poi si sa che la luna nera ci fa eccedere quindi monitorate gli eccessi se possibile detto questo grandi cambiamenti fatemi di sapere nei commenti fatemi sapere che cosa vi arriva di nuovo e da quale illusione vi state svegliando perché è importantissimo prima lo fate prima si aiuta saturno a fare il suo lavoro però io vi aspetto nei commenti perché sono sicura che avrete delle belle novità vi mando un grandissimo bacio ringrazio tutti per essere arrivati con me alla fine di questo lunghissimo oroscopo vi auguro una fantastica luna piena in sagittario a tutti se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella e scaricate l'ebook gratuito sulla luna dei segni grazie a tutti per essere con me grazie a quelli che sostengono il canale che mi offrono il caffè su cofai grazie a tutti gli abbonati un mega mega bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao